Sono presenti in circa 70 paesi del mondo i muri divisori, da quello di Trump tra Stati Uniti e Messico a quelli tra India e Pakistan, tra Zimbabwe e Botswana o quello europeo di filo spinato tra Ungheria e Serbia. La scrittrice Michela Monferrini nel libro Muri Maestri, edito dalla nave di Teseo, partendo dalla constatazione che dopo la caduta del muro di Berlino il numero delle barriere è molto aumentato, ha deciso di raccogliere storie di muri che uniscono, che ospitano, che diventano collettori di preghiere, sogni, aspirazioni, testimonianze, ricordi, proteste. La scoperta più emozionante anche è stata quella del muro degli eroi di Londra, che è un muro dedicato a coloro che hanno perso la propria vita salvando la vita di qualcun altro o quantomeno provandoci e quindi da quel 1900 fino al 2007 vengono apposte tante piastrelle, ognuna racconta, riporta un nome, un cognome, una data di nascita di morte, un motivo di morte e ci racconta di persone di cui magari sarebbe rimasto un trafiletto sul giornale, ma che invece sono bloccate lì nel loro gesto eroico massimo. Ci sono muri che rappresentano testimonianze, muri che cambiano la propria funzione, muri che sono portatori di idee e muri che vengono replicati, come il John Lennon Wall, nato a Praga subito dopo la sua morte. Gli studenti che erano sotto dittatura a Praga vanno davanti a questa parete in pieno centro, cominciano a scrivere messaggi di pace, appunto frasi pacifiste, molti brani delle canzoni ovviamente dei Beatles, riproducono i volti dei Beatles e ogni notte in quel caso la polizia di regime andava, cancellava tutto e ogni mattina loro ricominciavano e riempivano questa parete. Molti, molti anni dopo, cioè ormai in questo secolo in cui ci troviamo, durante il movimento degli ombrelli di Hong Kong, lì gli studenti e non solo gli studenti, la popolazione manifestava contro una legge elettorale inaccettabile e appunto a distanza di anni, a distanza di migliaia di chilometri decidono di replicare un John Lennon Wall. Spesso i muri, grazie agli interventi di un artista, diventano terreno di denuncia, come nel caso di Bansky, ma ha scoperto Monferrini che la protesta sui muri non è solo appannaggio dei giovani. Ho trovato moltissime storie di persone molto in là con l'età che hanno usato proprio questa formula, cioè la bomboletta e il muro per denunciare quello che volevano denunciare. Il caso emblematico è Louise, che è una signora svizzera che va sui muri, è stata arrestata anche recentemente, è quasi novantenne lei, sui muri della Banca Nazionale Svizzera, quindi uno dei luoghi più intoccabili forse del pianeta, a Zurigo, e lei scrive con la bomboletta spray messaggi contro il finanziamento delle banche e al mercato delle armi, che poi ovviamente alimenta guerre in giro per il mondo. Ci dice appunto che l'impegno, la rabbia, persino la ribellione, persino la rivoluzione non centrano niente con l'età anagrafica.